Ciao, mi chiamo Lorenzo, tutto bene? Nella vita seguo i social network del ristorante di famiglia. Abbiamo un ristorante aperto dal 63 sulle colline di Rimini e mi occupo della gestione del marketing e dei social del nostro ristorante. Penso che sia perfetto, entusiasmante. Per me è che voglio ampliare un po' il pubblico, il target del ristorante, quindi non solo fatturare su chi entra nel locale ma cercare anche di ampliare la vendita un po' a livello nazionale dei nostri prodotti perché li produciamo noi e quindi lo trovo molto indicato per chi come me vuole partire e avere le basi prima di fare errori. Francesco sicuramente ha un approccio molto tecnico, improntato a darti un'impostazione verso il risultato. Io ho conosciuto il corso però leggendo il libro di Marco Biasin e quindi mi sono un po' appassionato quello che raccontava lui nel libro. Ho provato a venire qua direttamente perché dal vivo è sempre un'impronta maggiore quello che puoi imparare. Allora lo consiglio sicuramente a chi come me e vuole avere le basi per l'e-commerce prima di commettere errori anche perché dall'inizio qua ti spiegano quale piattaforma è meglio per il tuo business e non è una cosa scontata. Potrebbe essere un problema a partire con la piattaforma sbagliata per il business. Oppure ci sono anche tante altre persone che già fanno e-commerce, che hanno un'agenzia a loro web marketing e può essere anche un ottimo aggiornamento per rimanere sempre pronti e sul tempo.